Per la riapertura di Via Saffi l'8 e il 9 maggio a Montesilvano ci sarà un festival, assessore street art e tanto altro. Finalmente e soprattutto la cosa che va andrà evidenziata è che riapriremo la strada dopo oltre 15 anni di chiusura e a tal proposito abbiamo ritenuto regalare alla città anche questo evento perché piuttosto che avere quei 500 metri di muro di contenimento grigi e tristi abbiamo deciso di dare continuità al progetto street art che stiamo portando avanti ormai dal 2016 quando abbiamo votato come primo comune in Abruzzo il regolamento per le attività di street art e ci saranno quindi 16 artisti di carattere nazionale e internazionale che sono già al lavoro su tutta la parete quindi vi invito anche ad andarli a trovare e l'evento vedrà il suo apice nelle giornate di sabato e domenica quando verrà aperta la strada perché la cittadinanza possa iniziare a godere delle opere ci saranno food truck, momenti di intrattenimento. Questo è un ulteriore tassello che andiamo ad aggiungere al progetto di street art Montesilvano che poi vedrà il completamento attraverso la realizzazione di una mappa che stiamo portando avanti sia cartaceo che multimediale che permetterà ai tanti appassionati ma soprattutto ai turisti di scoprire questo museo a cielo aperto girovagando per Montesilvano con monopattini piuttosto che bici elettriche e quant'altro. Durante le due giornate sarà aperta al pubblico dalle ore 11 fino alle 22 e avremo sia la parte dello street food e quella della street art. Nella street art abbiamo 16 artisti internazionali e abbiamo questa parete di 300 metri che verrà competente dipinta con la tematica ambiente e paesaggio. Abbiamo artisti come Mr. Fidor, The Spider, Mr. Toms, Andrew Tosh. Avremo un po' di musica sottofondo. Ci sarà la radio start che ci accompagnerà, accompagnerà soprattutto gli artisti perché non si potrà ballare, non si potrà fare nulla di questo tipo e quindi sarà un'iniziativa dedicata specialmente al recupero artistico della città. Quindi gli spazi urbani che vengono lasciati e spesso abbandonati vengono recuperati grazie a queste opere murarie. Ma la cosa importante è venire a questo festival e capire quali sono le emozioni che trasmetterà sicuramente questo museo a cielo aperto. Ma tutto il contorno, anche già con la musica di sottofondo, vediamo poi ognuno di voi che verrà cosa potrà esprimere.